Grazie Molta fama, metti la Picchieri Pira fuori quelli con i nomi Puttana Comandante Non potete aterrare il nostro paese Abbiamo già abbastanza guai senza aiuto Ci sono solo due salori di lavoro Bisogna Lecce Che è proposto Ccomandante Picchieri 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 tenete a portata di mano tutti i valori chiedete di essere combattenti per la libertà li comportate come delinquenti hanno fatto scendere gli ostaggi da lei e dove li hanno portati? in qualche campo palestinese a Vero, suppongo mi risulta che i vostri uomini funzionano bene in Libano è il nostro mestiere, che parte? devo entrare in contatto con uno di voi grazie a tutti grazie a tutti